Benvenuti, benvenuti sul mio canale, io sono Luisa per chi non mi conosce e sono una consulente ladies Oggi mi è arrivato il pacco e quindi volevo mostrarvi che cosa mi è arrivato Allora, innanzitutto grazie a chi mi segue, grazie ai nuovi iscritti, mi fa molto piacere che mi seguite Quindi grazie, grazie di cuore Allora, Ladies è un'azienda rumena che esercita sul campo da più di 10 anni Solamente verso la fine dell'anno del 2022 è entrata in Italia Quindi in pochi mesi già abbiamo il catalogo in italiano Allora, Ladies è diciamo un... Oddio, non mi ricordo come si chiama Diciamo che è un distributore, ecco mi veniva, di grandi marchi Quindi tipo Vittoria Beauty, Impala, Isabella Dupont Argan Rosa, Aristea, poi c'è Standelli Cioè quindi ci sono tantissimi di questi famosi brand Non è un netto marketing, quindi non abbiamo ogni mese la frustrazione di dire Oh, devo fare l'ordine, devo fare quello... No, possiamo fare l'ordine quando vogliamo Quindi non c'è un minimo d'ordine Possiamo, diciamo, sull'ordine Partiamo dal 5% e arriviamo fino al 35% Scusate E fino ad arrivare al 42% Diciamo, se ci troviamo una struttura Possiamo avere le provvigioni fino alla quarta linea Quindi nella prima linea avremo il 10% Nella seconda il 5% Nella terza il 2,5% E nella quarta l'1,25% I pacchi ci arrivano in 5-7 giorni Calcolate che l'ho fatto domenica, mi è arrivato oggi, che è venerdì Arriva con Bartolini E niente, più fatturiamo Cioè, nel senso, più facciamo l'ordine alto E più le spese di spedizione sono basse E in più l'azienda ci omaggia di tanti Non dico tanti, però con dei prodotti molto Prodotti comunque del catalogo, eh Quindi non è che prodotti così Oppure campiongini No, prodotti nel vero senso della parola Quindi possiamo rivenderceli Fare tutto quello che vogliamo Allora, io se volete poi avere più informazioni Chiedetemi su Messenger sotto Luisa Romoli Oppure sotto e poi ci sentiamo in privato, insomma Così vi dirò tutto quello che volete sapere Non c'è obbligo Non c'è, diciamo, non c'è obbligo Se poi non vi piace magari quello che sentite Quindi tranquillamente Io risponderò a tutte le vostre domande Poi sarete voi a decidere se provare oppure no Ok? Allora, iniziamo con i prodotti Come prima cosa vi faccio vedere I cataloghi che mi sono arrivati Sono sette Quindi Io mi sembra l'ho ordinata i cinque Me l'hanno mandata i due in omaggio Poi ho preso le busti Le buste Guardate che carine Le buste me ne sono Me l'hanno mandata di più Perché mi sarei prese i cinque Ma me l'hanno mandata in botto Quindi Sono buste di carta Infatti l'ho ordinata i cinque Ma me l'hanno mandata tipo Boh, quanti Cioè, sono Sono tantissime ragazze Infatti adesso ci stavo a pensare Come l'ho ordinata i pochissimi No, vabbè Questa mi piace questa cosa Bella Poi Mi hanno mandato come omaggio I tester dei profumini Questi qua sono sia da donna che da uomo E sono profumini equivalenti agli originali Ok? Allora Iniziamo Iniziamo con il make-up Allora Qui abbiamo Un prodotto che ha un fondotinta Della linea Impala Questo qua Scrive che ha una durata di 24 ore Ha una protezione solare 15 È fatto in Italia questo Quindi è resistente all'acqua Ci sono cinque colorazioni E questo è il natural bronzer Eccolo qua Ok Poi Abbiamo Un matidone Questo è sempre Un matidone Questo è un matte lipstick Della linea Impala La linea Impala Non tutti i prodotti Come avete visto Quello è fatto in Italia Questo è fatto in Germania Tutti hanno la scritta Dermatologicamente Testati Perché Ladis Non fa Esperimenti sugli animali Non fa esperimenti sugli animali E quindi Diciamo che Sono Bio Non nickel Sono bio vegan Quindi ragazzi Direi che sono Molto buoni Questi prodotti Allora Poi abbiamo qua Un altro Questo è Un lucida labbra Non lucida labbra Scusate Un Oddio come si chiama Adesso mi sta sfuggendo un attimo Non lucida labbra Sì Lucida labbra Questo è della linea Velvet matte Questo è la colorazione È il numero 616 Quindi è Isabella Dupont Questi qua E Questo Se non erro È fatto In Italia Anche questo Eh sì È scritto qua Ok Bene Mi piace Poi abbiamo Due matite Della linea Oryx Questo è Un intenso Cajal Sono due diversi Neri Uno è Più scuro E uno è Meno scuro È quella Che porto io E sinceramente La amo Perché non mi irrita L'occhio Non mi sbava Cioè quindi Forse ho trovato La matita Delle miei sogni 3 euro E 18 Queste matite Poi abbiamo Una matita Per le labbra Di questo colore Questa è temperabile Poi abbiamo Un'altra matita Per le labbra Della linea Petales Questa anche Si tempera Eccolo qua Il colore È questo Che vedete Sulla Diciamo Il Questa è Ad esempio In madite In Turchia Perché le madite Infatti Sono made In Turchia Sempre Isabella Dupont E dermatologicamente Testate Ok Poi abbiamo Un lip Un rossetto Fatto tipo A lip Vediamo se riesco A scoprirlo Questo Lo faccio vedere Eccolo qua È così Guardate che bello Ok Questo è made in Germania E poi abbiamo Un mascara Effetto Non essere proprio Fredde Per fare la loro Fusione Quindi abbiamo Questo Poi abbiamo Ragazzi Guardate Quanta è bella Una bella Palette Di 21 colori Guardate che spettacolo 7 euro 7 euro E 28 Questa palette Ragazzi Ragazzi È veramente Veramente Bella Questa Guardate Ha il pennellino Guardate che bei colori No Veramente Fantastica Veramente Veramente Fantastica Questa invece È di Caterine Harley Ok Poi abbiamo Un burro Per il corpo Questa qua Hydra Smooth Smooth Satin Smooth Quindi è Un body Per il corpo Sì vabbè Un body Una crema Per il corpo L'acido Ialuronico E alla rosa È da 230 ml Guardate Bel borattolone Comunque Arrivano Arrivano Sigillate Ragazze Eccolo qua Quindi tutti i prodotti Mamma Ho aperto Il profumo Ragazzi Poi abbiamo Un altro Prodottino Questo Sempre Della Satin Smooth Questo è Uno scrub Per il viso Sempre Alla rosa E acido Ialuronico Da 100 ml Guardate Che carino Bellissimo Ma hanno Dei profumi Ragazzi Bellissime Queste cose Poi abbiamo Una crema Universale Invece Questa è una crema Per il viso Ha Semi di uva E rosa Queste creme Sono da 30 ml Allora Questa linea Diciamo Che non va A irritare La pelle Del viso Quindi adatta Anche per pelli Molto Molto Sensibili E non va A Parte a Irritarla Ma non va A dare Irritazione Quindi Sono Ottime Queste Piccoline Ma ne basta Veramente poca Poi abbiamo Due Balsami Labbra 1 euro 1 euro e 38 Guardate che carini Troppo carini Allora Questo è Alla rosa L'uno Molto Molto Carine Poi abbiamo Una crema Per il viso Questa qua È al collagene All'interno Contiene Antiossidanti Poi Vitamina Vitamina B5 Vitamina E Più acido Ialuronico Questa è Da 30 Ai 45 Anni È Una crema Molto Idratante E va bene Sia per il giorno Che per la notte La particolarità Di queste creme Che Sono Ora vi faccio Vedere Aspettate Che Ok Sono Hanno Questo Diciamo Questo Cosa Che voi Andate a Premere Premendo Vi viene Sù La La crema Quindi Non andate A contaminare La crema Che sta Nel Barattolino Ok Quindi È Veramente Molto Ingeniosa Questa Cosa Perché Sinceramente Non l'avevo Mai Mai Vista Una cosa Del genere Quindi Secondo me È Veramente Ottimo Ok Allora Chiudiamo Aspettate che Chiudo Se no Ok Poi 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 Abbiamo Una tinta Della linea Herbal Thyme Questa Non contiene Ammoniaca Non contiene SLS Non contiene Parabeni Non contiene Oli minerali Quindi È Al 90% Con ingredienti Di origine naturale All'interno All'interno Troviamo Il tubetto Di crema Il Questo qua Poi troviamo Un balsamo Troviamo Un altro Cosa Che si chiama Affito Non mi ricordo Come si chiama Va bene Altro Questo qua Una bustina Di questo olio Qua Che va messo Dentro la tinta Insieme Un Concentrato Fito Care Poi I guanti E foglio Illustrativo Quindi Ragazzi Questo è Il numero Marrone Scuro Dark Brown Solamente 5 euro E 50 Poi Abbiamo Un altro Prodottino Sempre per il viso Questa è Vasellina Questo Diciamo Che va bene Anche Diciamo Per le labbra Scripolate Se abbiamo I gomiti Insomma Per le mani Molto scripolate Ma Anche per il viso Quindi Prezzo Piccolissimo Non mi ricordo Bene Ma Poi abbiamo Due creme Terapeutiche Perché In ladies Ci sono anche Le creme Terapeutiche Sono da 100 ml E questa È Artiglio del diavolo Arnica E un altro Prodotto Che non mi Ricordo Aspettate Vado a vedere Allora E Tetano Intenso Reuma Ok Sono fatti Comunque Queste Lin Queste Linie Di Di creme Sono fatte Con Erbe E Fiori Quindi Sono Naturali E quindi Ce l'ho Due Ordinate Sono 200 ml 4,58 euro Poi abbiamo Un'altra Invece Questa È La forza Del cavallo E Questa È Invece Eccola Qua 7,48 euro 500 ml Questa Invece È Una combinazione Di estratti Di piante Medicinali Lenisce Istantaneamente Dolori reumatici Muscolari Articolari Quindi Aiuta A ridurre L'attride Aumenta La mobilità Articolare E regola La circolazione Periferica Quindi Ottima L'ho presa Pena signora Vediamo Speriamo che gli piace E funziona Poi abbiamo Una cipria Compatta Questa qua È anche Antibatterica Quindi Non ci va a formare L'acne Diciamo così È fatta in Germania Vi faccio vedere La colorazione Eccola qui Questo è il colore È il più scuro E sotto c'è la spugnetta Eccola qua Molto molto carina Poi abbiamo Due Sieri Per il viso Questi sono All'acido Ialuronico Allora Uno è Con il Retinolo E un altro Con il Matrixil E il collagene Uno è Lifting E un altro È Anti-age Eccolo qua Stanno a 5 euro I 8 centesimi Se non erro Dunque Sono da 20 ml E stanno andando a ruba Questi perché Sono favolosi Poi abbiamo Un altro siero Invece Questo qua Invece È Alla vitamina C Infatti Questo contiene Vitamina C A quel qua In altro Questo di siero Ok Questo invece Costa di più 7 euro E 49 Se non erro Poi abbiamo Una spatola Per capelli Guardate che carina Molto professionale 3 euro Poi abbiamo Una maschera Cioè diciamo Un trattamento Per le labbra Questo è Qui sopra Abbiamo Step 1 Uno scrub Che andiamo A fare Ad asciutto Quindi andiamo A Scrabbare Le nostre labbra E qui sotto Ci sono invece Queste labbra Così Che vanno tenute Tipo 15-20 minuti E poi Si toglie E si finisce Di massaggiare Il prodotto E ok Anche questo Ha 95% Di ingredienti Di origine naturale Eccolo qua Sono alla mora Infatti penso Che È da mangiare Questo prodotto Secondo me Mamma mia Contiene collagene Sono ultra Idrotanti E quindi Ragazzi Il cliente L'ha preso Vediamo Se gli piace Poi abbiamo Un deodorante Neutro Naturale Questo da donna Ma secondo me Ponda bene Anche da uomo Perché no Durata 24 ore Poi Abbiamo Un'altra Due prodotti Che questa Era la novità Di questo catalogo Che sono Questi sieri qua Allora Questo è Rivitalizzante E questo invece È idratazione E luminosità Questi sono Tre step Che si fanno Tutte e tre Insieme Prima della crema Ve lo faccio vedere Uno com'è Eccolo qua Come arrivano Sono tre ampolle Diciamo Poi c'è Allora C'è questo che è Lo step Uno Eccolo qua Comunque si stanno Scritti avanti Vedete Step Due E poi c'è Il step Tre E questi Vanno messi Uno Prima uno Poi due Poi tre E poi la crema Quindi Secondo me Vediamo la signora Se rimane Soddisfatta Poi abbiamo Una maschera Per i talloni Questo Diciamo che sia Una maschera Tipo calzino Per il tallone Da tenere su 60 minuti Quindi da così Il piede diventerà così Quindi questo Diciamo che Idrata Sfoglia E Idrata Sfoglia Non mi ricordo più Ce ne sanno Talmente tanti Ragazzi Mamma mia Allora Questo C'ha tre benefici E Sfoglia Levica Idrata Scusate E quindi Vediamo La signora Se si troverà Benissimo 3 euro e 48 E Proviamo Poi qui abbiamo Un profumo Della linea parfum Questo è il 404 Questi Della linea parfum Sono ispirati Ai profumi Originali Questo Per la Diciamo È ispirato A Intenso Di dolce e gabbana Quindi Eccolo qua Sono da 30 ml Questo è da uomo Poi Mi hanno Maggiato Oltre alle buste Al catalogo E E ai profumini Mi hanno Mandato Questo Che sono Le strisce Depilatorie Alla bava Di lumaca Dentro ce ne sono 20 Quindi sono Molto contenta Di questa cosa Eccole qua In più Contengono anche Due Salviettine Diciamo Per andare A pulire Molto Gradito Questo regalo Perché poi Questi regali Possiamo anche Rivendere Se vogliamo Quindi Se non Utilizziamo Si possono Rivendere Tranquillamente Quindi è Un ulteriore Guadagno Quindi mi hanno Maggiato Di questa E mi hanno Riomaggiato Per la seconda Volta Di queste Creme Terapeutiche Che Queste costano 12 euro Qualcosa Sono 4 Per 70 ml L'una Allora Questa è Rinfrescante Questa è Riscaldante Questa è Al fango Del Marmorto Non mi ricordo bene E questa invece Ecco le Cre Così Con le Castagne Selvatiche Quindi ragazzi Io ho provato Quella rossa Perché avevo un po' Di mal di schiena Questi giorni Devo dire che Ha fatto il suo Effetto E quindi Me l'hanno Riomaggiate Io se riesco A venderle Le vendo tranquillamente Perché ce l'ho Cioè E quindi Ecco qua Quindi ragazzi Questo era Tutto il pacchetto Che mi è arrivato Vi Vi Diciamo Vi invito A sfogliare Il catalogo Se volete Chiedete Me l'ho detto Essenza Impegno E quindi Niente ragazzi Io vi ringrazio Vi do un grosso bacio Una buona serata E Ci vediamo Al prossimo video Ok Ciao ragazzi Ciao 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 Grazie.